Beh, adesso devo dire che stiamo bene, dai. Abbiamo un po' rivoluzionato queste pratiche di matrimonio, nel senso che per venire meno alla tristezza del momento, ci siamo inventati un nuovo modo di festeggiamento, il buon non matrimonio, proprio come accade nel paese delle meraviglie, con il buon non compleanno. E quindi ieri abbiamo fatto una mega videochiamata con i parenti e gli amici più stretti e abbiamo festeggiato, abbiamo brindato. E così, avete fatto bene. Allora, noi molto spesso facciamo dei servizi, come si organizzano i matrimoni, consigli per organizzare i matrimoni. A voi dobbiamo chiedere il consiglio opposto, cioè qual è il consiglio per non prendersela troppo, insomma, per non essere riusciti a mandare in porto questo progetto, che però ovviamente è soltanto rinviato. Allora, l'unica cosa è accettare la situazione per quello che è una cosa più grande di noi. Cioè, in tutto il mondo sta subendo questa pandemia. Una volta accettato, devi riuscire a trovare le soluzioni migliori per far combaciare, eventualmente la chiesa, la sala, il fotografo, come tutti ben sanno. E trovare il giorno in cui tutto è possibile. Noi per fortuna abbiamo trovato, non è fatto difficile, abbiamo avuto fortuna. Quindi il 21 settembre, covid, virus permettendo, ce la dovremmo fare. Mediamente per organizzare un matrimonio ci vuole tra un anno, un anno e mezzo, a volte anche poco, dipende da quello che uno vuole fare. Poi, insomma, non si augura a nessuno, neanche al peggior nemico, il dover ricambiare tutti i giorni, fare veramente tantissime telefonate. Vi chiedo, i parenti, gli amici, i testimoni, come hanno, come vi sono vicini e soprattutto se vi stanno dando una mano in qualche modo, quali sono le considerazioni dei parenti, ecco. Allora, diciamo che ci stanno vicino moralmente, soprattutto ieri, l'altro ieri, che erano stati un po' più pesanti, diciamo, ovviamente, videochiamate e tutto. Poi, per fortuna, il resto l'avevamo già organizzato e rinviato tutto in un'unica chiamata, siamo riusciti a fare tutto. Quindi, per una volta, è già tutto organizzato. Personalmente, come ci sei rimasta? Cioè, quali sono le emozioni contrastanti di questo periodo? Beh, io all'inizio, diciamo, no, vabbè, ce la faremo. Non credo che proprio il 23 aprile ancora questa situazione esiste. Invece, poi, pian piano prendi coscienza. Io pianto, all'inizio pianto tantissimo. E conferma lui. È stato pesante anche sopportarmi. Poi, niente, pensi che alla fine hai solo rimandato. Purtroppo non è colpa di nessuno. Né colpa nostra, né colpa del nostro amore, né colpa di altri. Semplicemente è successo, che dovevamo fare. Come a qualsiasi altra cosa che succede nella vita, ti rimbocchi le maniche, ti alzi la testa e riparti. E così abbiamo fatto. Certo, ci penso a quel... Soprattutto ieri ci ho pensato tutto il giorno. A quest'ora eravamo in chiesa, a quest'ora eravamo in sala, le foto, eh. Però si fa una solo del male, basta. Salutandoci, chiudendo questa intervista, e vi ringrazio per averla accettata, vi chiedo, per concludere, qual è il messaggio che mandate a tutte quelle coppie che in questo momento hanno apparentemente soltanto un sogno infranto, che era quello del matrimonio, purtroppo, al tempo del coronavirus? Di continuare a lottare, stare vicini come coppia, perché con l'amore si supera tutto. E quando c'è l'amore, ce la si può fare. Ce l'abbiamo fatta noi, noi ci stiamo mettendo tutto il cuore, ce la può fare chiunque. Poi, per fortuna, chi ha i parenti, amici vicino, è ancora più facile. Quindi non abbattersi e continuare sempre a lottare. Pensare soltanto che è rinviato il sogno. Non è cancellato, non siamo stati battuti. Ecco, abbiamo fatto un tavolo di ritardo. Siamo in stand-by, è come essere un po' in stand-by. Esatto, e allora, va bene ragazzi, 21 settembre? Sì, sì. Non si scappa, ci vediamo il 21 settembre in chiesa, eh!